In diretta da Rofrano, secondo appuntamento con Cilento Experience. Siamo con Peppe Servillo che questa sera si esibirà nella chiesa di Santa Maria dei Martiri con il Solis String Quartet. Il suo spettacolo si chiama Presentimento. Perché questo nome? Presentimento è una delle canzoni che proponiamo stasera, è un repertorio di canzoni napoletane, rilette appunto per l'orchestrazione dei Solis String Quartet e riproposte da me nel solco di una tradizione che vuole cantanti napoletani e anche un po' attori, perché le storie che io racconto, che sono firmate da grandi autori come Bovio, Di Giacomo, Viviani, sono storie che appartengono alla cultura del teatro e che vengono, per così dire, in qualche modo messe in scena con la musica. e proporremo questo repertorio appunto a Rofrano, nell'ambito di questo festival che si propone di distribuire, se così possiamo dire, in tutto il Cilento, che è un territorio tanto vasto quanto affascinante e bello, vari spettacoli per far sì che promuovere ancora di più la conoscenza di un territorio così affascinante. Peppe Serviglio è un grande artista, quando nasce il suo amore appunto per l'arte? Ma amore per l'arte è un po' un'immagine troppo grande, troppo importante, diciamo amore per l'artigionato, in questo caso, che è quello che riguarda la canzone. Io da sempre nella mia storia ho frequentato questo piccolo magnifico oggetto che ci tiene compagnia, che ci pone delle domande, che ci consola, a cominciare dagli Avion Travel, proseguendo con tante altre esperienze, come quelle con Natale Mangalavite e Javier Girotto, quindi con la musica argentina, fin poi appunto al lavoro con i soli di String Quartet, presentimento del secondo disco, il primo disco si intitola Spassionatamente, le proporremo anche assieme un'edizione nuova che sarà nei negozi a Natale, e stasera però in realtà i dischi per noi sono un biglietto da visita che serve ad invitare il pubblico a venerci a seguire nei concerti, anche un concerto come quello di stasera alla chiesa di Santa Maria di Rofrano. Cilento, lei in quest'ambito, di questo territorio, e soprattutto siamo a Rofrano, nel cuore del Cilento, lei lo conosce bene? Conosco bene il Cilento perché ci vengo anche per ragioni personali, io sono campano, sono gaseltano, è un territorio che conosco molto bene sia per i concetti che ho ottenuto in questa regione per il passato, sia per motivi assolutamente personali, amo il mare di questa terra, amo il cibo di questa terra, ma soprattutto amo il paesaggio, anche il paesaggio interno, la popolazione, il modo che ha di parlare, il modo che ha di mettersi in relazione con il paesaggio e con il territorio, di custodirlo anche il paesaggio. Noi con un festival del genere contribuiamo a custodirlo, questo territorio, nel nostro piccolo, e a farlo conoscere. È un invito ai giovani che si avvicinano al mondo dello spettacolo, anche perché lei è un veterano e il suo successo è dovuto all'impegno, ma anche alla passione. E cosa vogliamo dire a questi giovani che a volte si arrendono? Bisogna mettersi d'accordo sul significato delle parole. Cosa vuol dire successo? Per me successo significa condividere con i compagni il gusto e la passione di fare questo mestiere e grazie a questo mestiere girare tanto per il mondo, per il nostro paese e per il mondo. Io ho cominciato così e continuo a farlo così. Se si pensa che invece questo mestiere possa essere un scalino per la vanità, per il danaro e per il potere, allora si sbaglia a strada. Io ringrazio Peppe Servillo, invito i telespettatori di Trek in TV a seguire la diretta perché ci saranno dei brani. Noi seguiremo magari il primo e anche il secondo di questo spettacolo che si chiama appunto Presentimento. La ringraziamo e invitiamo i nostri telespettatori a continuare a seguirci su Trek in TV. Grazie. E noi siamo gialli stasera ma ricordatevi che il giallo è il colore della gioia, del sole e della vita. Ed è un bellissimo augurio, grazie. Grazie.